...la banchina alle pre-operazioni di attracco. Sì, tutto è pronto, i rimorchiatori sono usciti, il pilota è uscito per andare a recuperare la nave, sta per entrare, manca poco. Siamo alla seconda esperienza, ma credo che tutta l'organizzazione, almeno fino ad ora, ha funzionato perfettamente sotto il controllo della prefettura. Quindi siamo ottimisti nel senso che dovrebbe funzionare tutto bene. C'è una caratteristica particolare questa volta, che la stiamo facendo su una banchina, che non era stata ancora inaugurata, si sperava di inaugurarla con una nave da crociera che veniva il primo di maggio, ma l'occasione è migliore, lo facciamo come accoglienza per i migranti. Infatti vediamo una grande tranquillità rispetto alle altre volte, l'esperienza in questo ambito conta e anche parecchio. Salerno mi sembra che sia alla nona o a decima, no, alla nona, ne abbiamo fatte sette fino all'estate dello scorso anno, poi ne abbiamo fatte altre due. Quindi sostanzialmente credo che è una delle città che sta dimostrando di essere sempre pronta quando gli viene richiesto. Ovviamente c'è un concerto per il Ministero degli Interni, il Ministero della Difesa, il Ministero della Trasporti e Infrastrutture e le Capitanerie, per coordinare quali sono sostanzialmente i modi migliori per accogliere i migranti. Poi la prefettura, poi in relazione anche alle esigenze di trasportare i migranti nelle località dove possono essere accolti nel migliore dei modi, determina pure la scelta del porto. Ma noi ci facciamo trovare sempre pronti. Notizie direttamente dalla nave, dal comandante? Ma guardi, penso che sono i dati che già sono stati pure pubblicati, ci sono da potenza sanitario alcuni casi di scabbia, sono credo poco più di un centinaio di persone, però sono stati monitorati, sono tutti quanti in tuta, quindi sono stati individuati bene. Sono circa 365 uomini, poco meno di 150 donne, c'era solo un minore. Alcuni casi particolarmente gravi sono stati già trasbordati perché nel viaggio di navigazione della nave c'erano quattro casi particolari dal punto di vista sanitario. C'è stato un trasbordo a largo di Augusta e sono stati portati questi quattro soggetti particolari direttamente nel porto di Augusta senza interrompere la navigazione della nave. Quindi ora dovrebbe essere relativamente problematica la gestione di questi soggetti. Quando andando in questi giorni, proprio per questo ripetersi di sbarchi, di operazioni nelle acque del Mediterraneo, si sono accese ancora di più le polemiche. Ovviamente la Guardia Costiera e Capitaneria di Porto continuano a fare il proprio lavoro. Tutti però a questo punto invocano un intervento concreto dell'Europa. Lei? A me fa estremamente piacere che lei lo dice, ma lo sta dicendo lei. Noi facciamo il nostro lavoro, noi salviamo le persone che vengono dal mare, qualsiasi sia la pelle, qualsiasi sia la religione, qualsiasi sia la destinazione, la provenienza. Quando ci chiamano siamo sempre pronti. Certo, lo sforzo che stiamo approfondendo in questo momento nel Mediterraneo è tale che non so quanto potrà reggere rispetto agli uomini e rispetto ai mezzi che stiamo impiegando. In questo momento questa unità è stata praticamente utilizzata per portare i migranti che sono stati intercettati da due unità. Non riusciamo neanche a intercettare e portarli sulla terraferma. In questo momento alcuni di questi migranti, molte decine di unità di questi migranti, sono stati intercettati da un'altra unità che poiché è rimasta in zona ha trasbordato i migranti su una vecchimera per venire a Porto Israele. Questo per dirle come sostanzialmente siamo in una situazione di emergenza anche dal punto di vista operativo. Però non abbassiamo la guardia e fin quando possiamo diamo i nostri contributi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.